Allora, D'Alema da Padova ha detto che se vince il sì si spacca il Partito Democratico e nasce un nuovo partito. Da Venezia c'è un grandissimo malumore per il patto firmato da Renzi con il sindaco Brugnaro. Cosa sta succedendo? Beh, c'è una grandissima confusione. Questo referendum viene caricato di significati, al di là dei significati tecnici, di riforma di una carta costituzionale che fin da subito si era detto che aveva bisogno di qualche rinnovamento e di qualche miglioramento. Io da parte mia ritengo che sia giusto procedere in questo senso. Nelle strumentalizzazioni, nelle visioni del giorno dopo, c'è spazio per tutti. D'Alema dice delle cose, altri ne dicono altre. Ecco, io penso che si sia un po' perso il senso della misura e che si sia preso il pretesto del referendum per fare delle faide interne anche all'interno del partito, ma non soltanto all'interno del partito. Penso che sia importante adesso per tutti mantenere l'attenzione su quello che andiamo a fare, c'è la volontà o meno di rinnovare la nostra carta costituzionale, capire che è un modo per avere maggior dinamismo. Io sono assolutamente convinto che la riforma sia giusta, perfettibile come tutte, ma in questo momento giusta e voto e chiaramente sono per il sì. Per quanto riguarda le difficoltà di comunicazione che sono state evidenziate a Venezia, penso che sia importante un più forte collegamento tra il partito veneziano e il governo, perché se effettivamente si confermano queste discresie non è una bellissima cosa, ma non lo è neppure per il partito democratico di Venezia, che dovrebbe in qualche modo avere un collegamento più forte con il governo. Grazie a tutti.